... Mister, diceva un calcio che deve rinascere dalla strada? Sì, deve rinascere dalla strada, si intende che deve rinascere nella passione dei ragazzini, deve rinascere, purtroppo in oratorie che non ci sono più, ma deve rinascere nei cuori di chi si riappresta a questo sport non sognando chissà cosa, non sognando soldi, balcoscenici, ma sognando quello che sognavo io da ragazzino, di divertirmi, perché il gioco del calcio deve essere divertimento per chi lo fa e per chi lo va a vedere. Con quale spirito affronta l'inizio di campionato? Con lo spirito giusto, sono venuto qua rinunciando anche a categorie superiori, proprio perché mi hanno convinto le persone, proprio perché mi ha convinto l'apertura di questo stadio senza barriere e credo che in queste categorie, le vado a quello della Juve, credo un altro paio non ce ne siano e quindi provare l'ebbrezza e il piacere di giocare in uno stadio senza queste reti divisorie dovevo cogliere il volo.